Seconda mattinata del Bifest 2023 dedicata a Fabrizio Bentivoglio, protagonista dell'ultimo film di Salvatores, Il ritorno di Casanova. Stamattina al Teatro Capuzelli, dopo la proiezione di Lascia perdere Johnny, unica esperienza di regia di Bentivoglio, l'attore milanese è stato protagonista di una partecipatissima masterclass, al termine della quale ha ricevuto dalle mani di Felice Lauda Dio, il Federico Fellini Platinum Award. Quanto è Casanova lei?